Allora, io prima ho detto una cosa, Irene, che insomma, in teoria non si dovrebbe fare di litigare con i vicini, di disturbarli, no, non si fa, però il gruppo che sta per salire su questo palco, con il video che hanno fatto, spaccano tutto l'appartamento, cioè tirano i fili, strapano la carta da parati, rompono le piastrelle, ecco, questa è una cosa che potete tranquillamente fare a casa vostra, tranquillamente. Ma che dici? Vabbè, comunque non è stupendo solo il video, non è stupendo solo il loro casino, ma è molto bella anche l'amoromusica. Con Fasi, gli Zero Positivo! Non è stupendo solo il volo su te, faccio di tutto un po', senza concluder niente. In un film delle mie facie, è divertente, faccio di tutto un po', e lascia che mi stimoni la mente, e di tempo ne ho. Ma vorrei che tu fossi con lì, con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Si vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Vivo le mie fasi, è divertente, faccio di tutto un po', lascia che ti stimoli idealmente, che di tempo ne ho. Ma vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Si vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Si vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Si vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Vorrei che tu fossi con lì, aggrapparci ma ancora per poco in noi. Complimenti a loro e complimenti a tutti.